Non è stato un delitto passionale, ma un raptus suggerito da una voce divina. Sarebbe stata questa la sintesi delle parole che Michael Alessandrini ha pronunciato oggi nelle quattro ore di interrogatorio di garanzia nel carcere di Pesaro. Si è trattato del primo faccia a faccia con la giustizia italiana per tentare di spiegare i motivi che hanno portato il trentenne pesarese Reo Confesso d'omicidio ad uccidere l'amico di infanzia Pierpaolo Panzieri con 15 coltellate per poi darsi alla fuga in Romania. Romania dalla quale Alessandrini è stato estradato ieri a quasi un mese dal suo arresto avvenuto il 22 febbraio. Oggi nel carcere di Villa Fastigi l'avvocato difensore di Alessandrini Salvatore Asole ha affiancato l'assistito nell'interrogatorio. Da quanto trapela Alessandrini avrebbe agito perché secondo il suo parere Pierpaolo si stava comportando in maniera negativa nei confronti di una ragazza di nome Giulia. Nome che fin dai primi interrogatori in Romania lasciava trasparire la possibilità di un movente passionale legato alla gelosia. Alessandrini avrebbe invece escluso questo sentimento accampando piuttosto l'azione di una voce divina che l'avrebbe spinto ad accoltellare a morte l'amico. Già in precedenza la madre di Alessandrini aveva raccontato che negli ultimi tempi il figlio aveva iniziato a leggere le sacre scritture e lo stesso Alessandrini già davanti alla giustizia romena aveva detto di essere un seguace di Yahweh. L'avvocato Asole ha chiesto la perizia psichiatrica per far luce sulla capacità di intendere e di volere del suo assistito. Domani invece, sabato 18 marzo alle 11, nel Duomo di Pesero si terranno i funerali di Pierpaolo Panzieri, 26 giorni dopo la sua morte.